Verranno svolte indagini naturalmente come per tutti i fatti gravi. In questo territorio c'è un'autorità giudiziaria e degli investigatori che hanno grandissime capacità e grande dedizione. La festa della polizia in una chiesa di Ponticelli, il santuario di Santa Maria della Neve, azzera di colpo la distanza fra Stato e cittadini nel rione in cui la camorra opprime con l'arroganza e trasforma la quotidianità in un incubo con le bombe che scandiscono la faida tra i clan. Perché siamo qui? Perché questa è una parte importante della città, in cui abitano decine di migliaia di persone per bene che ci chiedono sicurezza. L'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, ringrazia la polizia di Stato per questa scelta e per l'impegno di sempre. Ponticelli perché qui, forse più che altrove, in questo momento c'è bisogno di una presenza, c'è bisogno di un farsi carico, c'è bisogno di una cura. Nel giorno di San Michele il ricordo di Giovanni Vivenzio, il sovrintendente dei falchi morto dopo un incidente e di tutti i poliziotti portati via dal Covid.